Il paese è ancora sotto shock. Restano gravi i due feriti. Sparatori al Ristobar di Pescara, slitta l'udienza sulla perizia psichiatrica a carico di Pecorale che il 10 aprile 2022 ferì il cuoco. Intanto Yelfri torna sul ring in Mondovisione, seppur in carrozzina parteciperà domani a un grande evento. La nostra squadra non è stata compatta a Teramo dopo le elezioni, Antonetti si lecca le ferite, ma ringrazia i suoi elettori per la fiducia. Il Pescara parte con il piede giusto nei play-off di Serie C, ottimo pareggio sul campo della Virtus Verona. Finisce 2-2, qualificazione a un passo, lunedì il ritorno. Ben ritrovati con una nuova edizione del nostro Tg Abruzzo, notiziario a firma e cura della redazione di Vera TV. In primo piano torniamo sulla vicenda che ha sconvolto la comunità di Civitacuana nel Pescarese, il doppio tentato omicidio. L'attentatore che ieri aveva sparato alla vicina di casa e al compagno resta in carcere. Si tratta appunto di un 25enne, è stato convalidato l'arresto, ma l'attentatore si avvale della facoltà di non rispondere. I due feriti restano gravi. Sentiamo Sergio Cinquino. Resta in carcere dopo l'arresto in flagranza. Il 25enne Nico Fasciani, che mercoledì notte è incontrato a Colle Scurco, la Civitacuana, provincia di Pescara, ha esploso otto colpi di pistola calibro 22 contro il suo prozio 56enne Giancarlo Fasciani e la compagna di questi, Paola Palma, entrambi ancora in condizioni molto gravi, ricoverati nell'ospedale di Pescara con colpi d'arma da fuoco al volto e al torace. Oggi la convalida dell'arresto nell'udienza richiesta dalla PM Fabiana Rapino, titolare dell'inchiesta, nella quale il giovane ci sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Cercano di far luce sul movente i carabinieri della compagnia di penne diretti dal tenente Alfio Rapisarda e della locale stazione. Ancora sotto sequestro la casa dove il 25enne, che abita di fronte dall'altra parte della strada, è entrato due giorni fa, verso le 11 di sera e poco dopo ha scaricato l'intero caricatore della sua calibro 22, regolarmente denunciata. Una vita apparentemente tranquilla, la sua, la passione per la caccia, l'attività nella locale proloco, descritto da tutti come un bravo ragazzo, un paese, un centro di poco più di mille anime, sotto shock, ma la voglia di parlare di un episodio che ha scosso la tranquillità del centro non è tanta. Non glielo so detto, io non commento. Non conosceva? No, non lo commento. Il paese è sotto shock? No, ma io non lo conosco neanche. Non vi aspettavate una cosa del genere? Non ci aspettavate. Siamo sgomenti di questa cosa. Gli inquirenti ci daranno qualche spiegazione. Il ragazzo è bravissimo. Qui siamo. Lo conosciamo da quando è nato. All'alba di questa mattina la Polizia dell'Aquila ha eseguito sei provvedimenti cautelari richiesti dalla Procura per spaccio di sostanze stupefacenti. La locale sezione antidroga della squadra mobile è giunta a tale risultato dopo circa un anno di indagini svolte mediante intercettazioni telefoniche e ambientali nonché attraverso appostamenti facendo emergere una vendita al dettaglio anche nei confronti di minori. L'operazione ha consentito di individuare un sodalizio criminale sottraendo al mercato aquilano sostanza stupefacente che avrebbe fruttato al dettaglio 50.000 euro. Cinque dei sei giovani sono stati accompagnati nelle loro abitazioni e sottoposti agli arresti domiciliari mentre il sesto è stato portato in carcere. Durante l'indagine della squadra mobile diretta dalla Procura della Repubblica dell'Aquila è stato possibile sequestrare circa 10 chili di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana. E' stata rinviata la discussione sulla perizia psichiatrica a carico di Federico Pecorale l'uomo che il 10 aprile 2022 sparò a Yelfri Guzman il cuoco del ristobar di Piazza Salotto a Pescara. Ieri in tribunale l'imputato era assente a causa di un malore e si torna in aula l'8 giugno. Sentiamo Sara Del Vecchio. Il rinvio dell'udienza al tribunale di Pescara non dispiace all'avvocato Piero Bisceglie che assiste la famiglia di Jeffrey Guzman il cuoco domenicano costretto su una sedia a rotelle dopo essere stato raggiunto da più colpi di pistola il 10 aprile 2022 al ristobar di Piazza Salotto a Pescara. Ieri il controesame del perito è saltato perché l'imputato Federico Pecorale accusato di tentato omicidio era assente a causa di un malore. Dovrà essere giudicato con il rito abbreviato davanti al giudice Francesco Marino. In aula si tornerà l'8 giugno. La discussione della perizia psichiatrica è invece fissata al 22 giugno. Un rinvio che secondo il legale Piero Bisceglie serve a rivedere meglio la diagnosi della psichiatra nominata dal giudice Federica Vellante, la quale sostiene che l'imputato al momento del fatto aveva la capacità di intendere di volere grandemente scemata per la sua patologia. I periti di parte civile Michele D'Andrà Giovanni e Carmen Fedele non sono d'accordo su tali conclusioni. Si chiede dunque un'ulteriore indagine per chiarire meglio la personalità dell'imputato, anche perché la minima differenza presente a livello diagnostico diventa sostanziale sul piano penale. Il 10 aprile 2022 Pecorale, a pranzo a Risto Bar, non ha apprezzato la salatura degli arrosticini e così prima ha colpito Jeffrey con un pugno e poi ha preso la pistola e gli ha sparato. Poi si è allontanato, ha chiamato un taxi per tornare in Svizzera dove viveva, ma in autostrada è stato arrestato dalla polizia. E Yelfri Guzman tornerà sul ring per combattere in occasione della 31esima edizione del Fight Club World Championship, il più grande evento di sport da combattimento d'Italia, in calendario per domani 20 maggio al Pala Giovanni Paolo II di Pescara con diretta televisiva in Mondovisione. Guzman, il ragazzo appunto raggiunto dai colpi di pistola lo scorso anno, parteciperà al combattimento seppur in carrozzina. Vediamo. Sarà proprio Jeffrey Rosado Guzman rimasto in carrozzina dopo essere stato colpito da più colpi di pistola il 10 aprile 2022 a disputare il primo match di box contro il più esperto Simone Dessi di Tortona in occasione della 31esima edizione del Fight Club World Championship in calendario per domani al Pala Giovanni Paolo II di Pescara con diretta in Mondovisione su Dazon a partire dalle 20.30. Per me è la prima volta che combatto su una sedia, preferirei farlo in piedi ma non si può per il momento quindi combatterò sulla sedia, quindi per me è sempre un sogno ma sempre tutto limitato, non è come io voglio stare in piedi, combattere in piedi come il mio sogno, ma anche sulla sedia farò realizzare il mio sogno. Però comunque è un grande passo avanti rispetto a quello che è successo? Certo, questo è già un grande passo per quello che mi è successo perché è stato brutto e sentirmi pronto per combattere vuol dire che è una grande cosa già. Un consiglio da dare anche agli atleti, tu che comunque hai già combattuto? E niente, di non mollare mai, è sempre allenamento costante e andate avanti che se non è oggi o domani arriverà la vittoria per tutti, quindi non mollare mai, continuate a fare le sport che ti forma come persona, ti dà disciplina, educazione e rispetto. Primo match di box autonoma in Italia, quindi prima volta assoluta in Italia, in cui due pugili si esibiscono da soli in carrozzina su ring. Due titoli del mondo, dieci match professionistici di kickboxing, pugilato, muay thai e tanto tanto spettacolo. Quindi ci auguriamo che il pubblico invada domani il Palagiovanni Paolo II, come è accaduto nelle precedenti edizioni e poi che gli atleti diano spettacolo adesso più che mai. Migliora la situazione meteo nel Pescarese, i fiumi sono ancora sorvegliati speciali, restano attivati i centri operativi comunali fino a che l'ondata di maltempo e di pioggia non sarà completamente terminata. La solidarietà del sindaco di Pescara Carlo Masci alle popolazioni colpite dall'alluvione. Sergio Cinquino. Sembrano sotto controllo le condizioni meteo nel Pescarese, rientra l'emergenza allagamenti grazie alla tregua concessa ieri e stamattina dalla pioggia, ma resta l'allerta fiumi, resta comunque ancora a livelli di guardia il fiume Pescara nell'area delle Golene dove gli uomini della protezione civile, i vigili continuano a monitorare il lungo fiume dove è stata evacuata la zona nord e anche la sud con accessi vietati e stop alle auto che sono state rimosse. Resta invece ancora allarme nella zona di città Sant'Angelo, dopo che i fiumi Piomba e Saline hanno superato i livelli di guardia con il Piomba che ieri è uscito dagli argini. È migliorata invece la situazione a Montesilvano dopo gli allagamenti ai negozi a piano terra e abitazioni con interventi dei vigili del fuoco e allagamenti in diverse abitazioni anche sul lungomare. Sia il comune di città Sant'Angelo che quello di Montesilvano hanno attivato il COC, centro operativo comunale, che sarà chiuso solo alla fine dell'ondata di maltempo, così come quello di Pescara, dove comunque la situazione è migliorata con il fiume ancora sorvegliato speciale. Massima attenzione da parte degli uomini della protezione civile, il centro funzionale d'Abruzzo della protezione civile ha raccomandato comunque di mettere in atto tutte le azioni previste nel piano comunale di emergenza. Devo dire che rispetto a quello che è successo in altre zone, Pescara ha tenuto bene, questo non può che farmi piacere, io colgo l'occasione per mostrare grande solidarietà della nostra città alle popolazioni che sono state purtroppo colpite pesantemente da questa alluvione, da questo ciclone che proveniva dalla Tunisia. A me è sembrato di rivivere vedendo quelle immagini il giorno del 10 luglio 2019 quando Pescara è stata colpita da una forte alluvione, una forte grandinata con tutta la città allagata. Questa volta questo non è successo, meno male, purtroppo i fenomeni della natura si stanno dimostrando sempre più violenti e meno controllabili. quindi l'attenzione deve essere massima. Il nostro settore della protezione civile è stato rafforzato, c'è il comandante Palestini che segue costantemente tutte le operazioni. Abbiamo avuto anche il felice riscontro di alcune zone che generalmente si allagavano con una pioggia non incessante, questa volta l'abbiamo avuta. Ieri sera il commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli ha spiegato l'importanza del fondo complementare Sisma 2009-2016 anche a fronte delle graduatorie del bando Nexa Pennino. Sbloccate qualche settimana fa un importante passo in avanti per il tessuto economico e sociale delle regioni colpite dal Sisma. Chiara Bonanti. Il senatore Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione 2016, ha sottolineato l'importanza del fondo complementare Sisma che ricuce i tessuti economici e sociali dei territori. I primi 1280 progetti approvati per il bando Nexa Pennino consentono di continuare un lavoro indirizzato anche alle aree interne. E' un dato acquisito, la ricostruzione ha un senso se abbiniamo all'attività di riparazione delle casse, del patrimonio materiale, anche la giusta spinta dal punto di vista economico e sociale. Quindi il recente decreto 3, quello che è stato proprio finalizzato dal governo Meloni per riordinare tutte le norme e le regole sulla ricostruzione ha proprio questo capo saldo. Next Appennino, i fondi del fondo complementare Sisma hanno questa finalità ed è stato veramente molto positivo riscontrare la reazione che il tessuto sociale ed economico del cratere 2016 e di cuore 2009 hanno documentato producendo proposte che sono state circa triple rispetto agli stimoli economici che abbiamo messo in campo. Quindi c'è vita nel cratere, c'è voglia, forza, vitalità e nonostante che i problemi non manchino, siano convinti che quella è la strada giusta. Che vuol dire strada giusta? Vuol dire cercare altre risorse per consentire lo scorrimento delle graduatorie e anche trovare nuove forme per alimentare questa idea, ovvero che non c'è ricostruzione che tenga se non insieme ad una serie di azioni di promozione del territorio che sono in realtà finalizzate anche a superare una grande questione nazionale che è la questione dell'Italia centrale. Per quanto riguarda le aree interne, il Terramano ne ha diverse. C'è il rischio che vengano dimenticate un po' dalle manovre o dalla ricostruzione pubblica e privata? No, questo rischio credo che non ci sia anche perché ho potuto documentare e constatare un grande interesse del governo rispetto alla grande questione della ricostruzione del centro Italia. Da questo punto di vista abbiamo avuto norme che stentavano a vedere la luce negli anni scorsi che sono state invece riconosciute, ne dico una fra le tante, la possibilità per gli uffici scolastici regionali, quindi anche quello dell'Abruzzo, di riconoscere la formazione delle classi nei comuni che sono stati regionati dal sisma in deroga a quelli che sono i numeri minimi degli alunni per classe. Questo vuol dire che fino al 2028-2029 e tanta è la risorsa economica messa in campo per questa ragione avremo questa possibilità. Quindi diciamo che l'attenzione è massima, ovviamente sta a noi meritare questa attenzione. Questo vuol dire soprattutto la ricostruzione pubblica, la ricostruzione degli edifici di culto, avere una capacità di attuazione che è il vero tema su cui io mi devo cimentare. Dicevamo infatti recentemente che dobbiamo passare dalle norme, dalla regolazione che è stata fatta, in maniera anche molto importante, dal commissario Legnini prima di me, io con lui. Ora dobbiamo passare ad aprire i cantieri perché sono stati tanti i soldi assegnati ai comuni e ora dobbiamo cercare di spenderli perché come è noto è quella la ricostruzione vera. Carlo Antonetti a Teramo analizza il voto delle ultime amministrative che lo hanno visto sconfitto da D'Alberto. Oltre a ringraziare per la fiducia agli elettori, Antonetti sottolinea come facendo riferimento in particolare alla Lega ma anche a Futuroin, la squadra non sia stata compatta. Carlo Antonetti fa un'analisi del voto dopo la vittoria di Gian Guido D'Alberto. Oltre a ringraziare tutti gli elettori che hanno posto fiducia in lui, accusa anche chi ha fatto il doppio gioco o non ha giocato di squadra, facendo riferimento alla Lega e a Futuroin. L'avvocato siederà in consiglio comunale in opposizione. Un'opposizione che sarà seria e decisa. Io ho impostato, la mia vita è stata sempre per impostare le squadre nel modo più corretto e leale, quindi nelle squadre si gioca tutti, tutti i giocatori devono giocare per vincere, quando c'è qualche giocatore che gioca per perdere. Tu fai un gol e dopo cinque minuti prendi due autogol perché sei d'accordo con l'avversario, non è una cosa che può passare inosservata perché non è corretto nei confronti non tanto miei ma dei cittadini che hanno creduto in un percorso politico, che hanno creduto in un rinnovamento e soprattutto hanno creduto in un percorso dove io sono partito praticamente da solo e dove tutte le forze politiche o civiche hanno aderito per loro scelta, non li ha costretti nessuno. Se hai fatto in modo che i voti andassero al candidato d'Alberto, quando ti siedi poi al consiglio comunale devi avere la forza di dare a questo percorso una concretezza così come è avvenuto in provincia perché il percorso è iniziato subito dopo nel momento dell'elezione del Presidente della provincia che peraltro, cosa strana, ha fatto una lista in appoggio del Sindaco d'Alberto. Quindi insomma, c'è, e dove c'è, guarda caso, un consigliere che sbraccia, che era un ex membro della Lega. Insomma, voglio dire, lo sappiamo tutti. Io adesso ho questo grande impegno che assumo con grande responsabilità, quello di sedere come consigliere comunale di opposizione e costruire un percorso di una squadra nuova, di un modo diverso di fare politica. Vediamo cosa riusciamo a fare, ma oggi mi sembra che l'emergenza Teramo sia al centro di tutto perché dobbiamo dare a questa città un cambiamento importante. Ha fatto riferimento anche a Futuro In e qualche giocatore slegato da quello che era un po' il gioco di squadra. Mi è sembrato di sì, questo dicono i dati, quindi Futuro In ha fatto un grande risultato, è stata una forza importante di questa coalizione e qualche giocatore ha giocato non del tutto nel modo, secondo me, corretto. E anche un po' una risposta a Teramo questa? Teramo ha detto che è stato il candidato di azione. Appunto, cioè nel momento in cui lei mi dice così e lui ha detto così, vuol dire che una squadra era già persa in partenza perché se dice una cosa che comunque non è vera, ha aderito lui, lo poteva dire quando... poteva non aderire. Avevano il candidato quaresimale, perché non l'hanno preso? Cioè perché non l'hanno portato avanti? Era un candidato eccellente. Perché non lo hanno fatto? Perché oggi vengono a dire queste cose? Le responsabilità si assumono prima, dopo ci si mette in una squadra e si gioca insieme alla squadra. La task force regionale si confronta ogni sera all'ASL di Pescara per verificare la sicurezza del sito web dopo gli attacchi hacker subiti dall'azienda sanitaria Aquilana. L'attenzione è massima, spiega il direttore generale dell'ASL pescarese, Vincenzo Ciamponi. Sarà del Vecchio. Abbiamo uno standard di sicurezza medio alta, però come ho già detto, attenzione perché gli hacker hanno attaccato il Pentagono o come si dice in gerga hanno bucato anche il Pentagono. Noi comunque siamo attenti, abbiamo alzato la guardia, ci siamo incontrati all'interno dell'ASL, in più c'è una task force regionale con la quale ci incontriamo quasi ogni sera alle 6, un giorno 6, un giorno no. Dopo l'attacco hacker alla ASL 1 dell'Aquila, l'attenzione è massima a Pescara per verificare l'eventuale diffusione di dati sensibili sul web. I controlli e i confronti nell'azienda sanitaria vengono effettuati ogni sera, precisa il direttore generale Vincenzo Ciamponi per evitare pericoli, anche se, sottolinea, la situazione è delicata. Attenzione a massimo, livello alto. Il presidente Marsilio ci guida in questo perché ha voluto creare questa task force e con la quale ci si incontra ogni giorno per confrontarci e per verificare eventuali livelli di criticità. Il Consiglio Comunale di Sant'Egidio alla Vibrata è pronto ad approvare il bilancio di previsione per il 2023. Lo farà nella seduta di lunedì prossimo, 22 maggio. Un rendiconto da 6 milioni di euro nel quale a recitare un ruolo da protagonista sono le opere pubbliche. Diversi infatti gli interventi previsti per i prossimi mesi a cominciare da quelli relativi alle scuole come conferma il sindaco Elicio Romandini. Parliamo di una decina di milioni che riguarda l'avvio dei lavori attraverso la progettazione che abbiamo già delle scuole. Dobbiamo ricostruire qui a Sant'Egidio la scuola media e adeguare per l'evento sismico che c'è stato nel 2015-2016 la scuola elementare. Rispetto ai dati o ai numeri che ci sono stati comunque comunicati per la ricostruzione e l'adeguamento sono di molto inferiori a quelli che effettivamente ci serviranno perché abbiamo già i progetti sia definitivi che esecutivi. Stiamo parlando con il Ministero e con la Regione e quindi nei prossimi giorni sapremo il finanziamento come è stato adeguato. Tra le novità del 2023 la nuova gestione della piscina comunale una struttura che ha aggravato molto sulle casse dell'amministrazione a causa del Caro Energia. Quest'anno ripartiremo con la nuova gestione per la piscina comunale l'abbiamo sempre tenuta aperta però insomma è la parte più importante come uscita per noi perché insomma si tratta di tener conto del Caro Energia che insomma in effetti il 2022 ci ha messo un po' in ginocchio. Speriamo adesso che i prezzi mantengono e sono tornati a livelli non proprio prima della guerra ma insomma siamo molto vicini quindi siamo molto speranzosi e speriamo bene che il costo dell'energia non complica ulteriormente quello che è il bilancio di gestione del 2023. Chiudiamo con lo sport il calcio in Serie C con una doppietta del baby Marco Delemona che il Pescara di Zeman scendenne dal campo della Virtus Verona nel primo turno nazionale dei play-off promozione per i biancazzurri passati in vantaggio nel primo tempo e poi agganciati in chiusura della prima frazione dagli escaligeri con un gol di Danti momento delicato nel secondo tempo quando i padroni di casa sono passati in vantaggio con il nuovo entrato Casarotto ci ha pensato poi il pescarese Delemona che su assist di Merola a riequilibrare la situazione a dieci minuti dal termine dunque è finita due a due ora per il Pescara nella gara di ritorno in programma lunedì sera all'Adriatico sarà sufficiente non perdere per passare il turno era questa l'ultima notizia il TG Abruzzo termina qui da parte mia grazie per averci seguito e buon proseguimento con le nostre trasmissioni